Ho detto, ho ripetuto, che questa città ha bisogno di un sindaco che abbia una personalità, che sia collegata alla storia di questa città, che abbia un'esperienza internazionale e che possa rappresentare la quinta città d'Italia. Ed è per questo che ho sostenuto e sostengo con convinzione Rita Borsellino, convinto come sono che Rita Borsellino, sindaco di Palermo, può certamente far rientrare Palermo nel circuito delle grandi città italiane dal quale purtroppo è uscito in questi 12 anni di barbare della giunta cammarata e diventa intollerabile pensare che coloro che hanno fatto gli assessori della giunta cammarata possono in qualche modo tornare a governare Palermo. Oggi la sua candidata vince? Io credo che vinca oggi, col consenso dei cittadini, come è opportuno che sia, perché è fondamentale che sia così, ma la cosa che poi anche mi permetto di dire non solo vince oggi, ma vince anche il 6 e il 7 di maggio, perché ho girato con lei tutti i quartieri della città e ho visto l'entusiasmo con il quale lei viene accolta e viene accolta anche il messaggio che lei manda, far tornare Palermo a quella che era quando il sindaco era un certo di Luca Orlando e farla tornare con nuovi protagonismi. La storia della primavera di Palermo, lo dico con un orgoglio di rispetto, un orgoglio di rispetto nei confronti dei padermitani che l'hanno vissuta, è stata una grande storia. Le grandi storie non si ripetono, le grandi storie si continuano con altri protagonismi ed è per questo che io credo, sono convinto, che l'unico modo per far continuare quella grande storia sia sostenere Rita Borsellino. Grazie.